Questa è un'attività che investe innanzitutto le politiche attive che sono di competenza del territorio e degli enti territoriali. Ovviamente agiamo in collaborazione anche perché c'è un protocollo nazionale. Il problema dei ghetti non si risolve in un giorno. Per ora la regione sul ghetto di Rignano ha avviato un'attività reperendo, allestendo l'azienda Fortore. Adesso è stato effettuato uno sgombro all'Arena che era da parecchi anni occupata abusivamente. Un immobile, un patrimonio pubblico grande che era utilizzato abusivamente da alcune persone. La regione ha un suo piano. Ovviamente questo non basta. Pensare che in un giorno si risolve il problema dei ghetti in Capitanata. E poi devo dire che a volte si trovano anche situazioni strane. Sul ghetto dei bulgari c'è un'intensa attività per trovare sistemazioni alloggiative. Però alcune situazioni che sono state reperite, soprattutto con l'aiuto dell'associazione di volontariato, sono state rifiutate. Bisogna un attimo avere una contemperazione perché noi siamo persone, siamo tutti uguali. Grazie. Grazie. Grazie.